salve ben trovati a questo appuntamento che periodicamente riprenderemo sempre con maggiore intensità di approfondimento partendo in alcuni casi da una specifica sentenza o un provvedimento normativo in questo caso parliamo del soccorso procedimentale prendendo come spunto la sentenza del consiglio di stato la 7353 del 2022 vediamo allora che cos'è a cosa si riferisce e perché può essere utile come momento di studio di ripasso e di approfondimento intanto un buongiorno a chi sta seguendo in diretta questo commento allora partiamo dalla sentenza sezione quinta del consiglio di stato quindi siamo in appello come al solito vedremo l'esito del primo grado e il motivo del contendere che ci viene descritto nel fatto vi ricordo che le sentenze sono organizzate in una parte di fatto e in una parte di diritto in alcuni casi sono descritte congiuntamente in questo caso è separata la parte del fatto rispetto a quella del diritto con un bando del 2020 la hspa indiceva una gara per l'affidamento mediante procedura aperta telematica con l'offerta economicamente più vantaggiosa di un appalto di consulenza di servizi informatici caso frequentissimo classico oseremo dire la vicenda va avanti e con determinazione 399 del 27 agosto 2020 vengono approvati verbali con l'aggiudicazione dell'appalto alla net rib di mu la gara viene impugnata dagli altri due partecipanti erano tre i partecipanti i due che non hanno vinto impugnano gli atti di gara caso ovviamente classico e di scuola cosa sostengono i ricorrenti nella busta economica dell'impresa così come consegnata alla società ricorrente in riscontro agli accesso agli atti non era presente una dichiarazione prevista appena di esclusione quindi un primo vizio diciamo formale seconda violazione del decreto 50 2016 articolo 30 che è l'articolo sui principi generali applicabili agli appalti e questo è il motivo più serio diciamo quello più specifico che stiamo analizzando quindi approfondiamo questo questo punto principio di separazione dell'offerta economica e tecnica sull'assunto che con la scusa di ottenere chiarimenti sul funzionamento del software offerto la commissione di gara durante la dimostrazione dell'uso del software dovete sapere che quando si acquista un nuovo prodotto molto spesso viene richiesto di inserire una demo una software dimostrativo e anche di mostrarlo di esibirlo cioè di far vedere come funziona perché ovviamente un software è un complesso diciamo gestionale che non si può descrivere soltanto con documenti tecnici durante questo momento nel quale l'impresa ha fatto vedere come funzionava il software la commissione di gara avrebbe chiesto al rappresentante dell'impresa di prendere posizioni in merito anche a possibili estensioni dell'offerta tecnica e alle sue conseguenze sotto il profilo dell'offerta economica così vanificando la separazione delle buste e rischiando di alterare la serenità e imparzialità del proprio giudizio quindi cosa dice tu mi hai fatto vedere il software il software prevede certe funzioni un membro della commissione dice guarda ma se io ti chiedessi di implementarlo con la stampa virtuale con l'invio automatico della pec con lo speed con una certa funzione me la faresti questa funzione e soprattutto a quanto me la faresti ok questo sembrerebbe essere la domanda fatta dal membro della commissione e quindi l'altro concorrente dice no in questo modo tu hai falsato il principio di separazione cioè quando io faccio la valutazione tecnica non devo conoscere dell'offerta economica sarei influenzato violazione dei punti 9 4 9 5 2 2 perché sono state aperte le buste in seduta riservata e non in seduta pubblica vi faccio presente che rispetto ai punti a e c formali cioè il fatto che mancava una dichiarazione o mancava l'apertura delle buste in seduta pubblica il consiglio di stato va molto velocemente dice non è vero diciamo non non è rilevante fra l'altro ci sono già sentenze che sostengono che non esiste più l'obbligo dell'apertura pubblica delle buste perché con il sistema telematico soprattutto l'uso della piattaforma acquisti in rete pa l'apertura è garantita dal sistema stesso quindi la pubblicità non ha più necessità di esserci nel capitolato tecnico altro motivo di ricorso nel capitolato tecnico nella parte in cui si stabiliva al fine di garantire l'allineamento dei dati bla 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 invece che un solo database l'impresa presenta doppio database quindi motivi tecnologici tecnici ma soprattutto quel motivo lì si è confuso si è utilizzata la richiesta di chiarimenti per informarsi sull'offerta economica pertanto cosa succede si arriva in primo grado il tar dà ragione al ricorrente il tar accoglie questi motivi di ricorso primo accoglie il ricorso dichiara la carenza di interesse della terza arrivata annulla gli atti impugnati attenzione disponendo che il rupp insieme alla commissione risigilli le offerte tecniche economiche e le sottoponga ad una nuova commissione di cui non deve far parte nel rupp nei membri dell'attuale commissione e ovviamente che non deve conoscere questi contenuti quindi dispone l'obbligo della segretezza quindi recupera far risorgere gli atti di gara fino al momento retroagendo al momento in cui sono diventati illegittimi ok questo è il tar il tar si basa su alcune motivazioni fra cui ed eccole qui il tar valorizza il principio per cui al di fuori delle ipotesi di chiarimenti previsti in sede di procedura negoziata dialogo competitivo o anomalia dell'offerta non è consentito chiedere chiarimenti o integrazioni relativamente alle offerte anche al solo fine di meglio comprendere la portata questa è la tesi che sostiene il tar cioè voi sapete che nelle procedure di gara esistono dei momenti in cui si possono chiedere chiarimenti il primo momento è fra quando viene pubblicato il bando in una procedura aperta e la scadenza dei termini di presentazione delle offerte o un termine anteriore stabilito dal bando stesso si chiamano chiarimenti in quella fase qualunque soggetto interessato a partecipare anche se non poi non presenterà l'offerta può chiedere chiarimenti ma i chiarimenti vengono poi forniti a tutti attraverso delle fac ok domande più frequenti quindi viene pubblicata la risposta a favore di tutti in modo trasparente prima che si chiudano i termini per presentare l'offerta dopodiché un secondo momento in cui vengono chiesti chiarimenti ma in questo caso il rapporto inverso è la stazione appaltante che chiede chiarimenti sia con il soccorso istruttorio ma il soccorso istruttorio si fa solo sulla parte amministrativa non sulla parte tecnica quindi chiarimenti prima della gara soccorso istruttorio chiusi termini prima dell'apertura della busta tecnica e della busta economica poi abbiamo l'anomalia delle offerte che è un caso particolare di richiesta di chiarimenti inoltre il tar ritiene che il fatto di aver sentito singolarmente i singoli le singole imprese fosse stata una violazione del principio di par condicio perché se tu hai un dialogo uno a uno non c'è trasparenza sul fatto di ciò che ti saresti potuto dire anche se c'è stata la audioregistrazione dei colloqui quindi c'è stato un registratorino che ha registrato i colloqui con le singole imprese ma questo secondo il tar avrebbe leso la segretezza e l'indipendenza del giudizio della commissione l'acca la società che stazione appaltante impugna davanti al consiglio di stato chiedendone il rigetto e il consiglio di stato dà ragione ad acca quindi sappiamo già chi è l'assassino quindi il consiglio di stato ritiene che la procedura originaria fosse legittima quindi non andavano annullati gli atti di gara quindi rivede la sentenza di primo grado e andiamo a vedere quali sono i ragionamenti e le motivazioni vi dicevo tralasciamo la parte formale e andiamo sul motivo più importante dal punto di vista nostro di possibili giolli ma in pratica hanno trasformato una procedura aperta o negoziata no non proprio diciamo che una procedura aperta complessa nella quale il software è un oggetto complicato per cui occorre capire se veramente fa al caso nostro aveva necessità di avere delle informazioni aggiuntive non poteva essere una procedura negoziata perché la cifra di affidamento era sopra la soglia che consentiva la negoziata in via preliminare occorre osservare che se è certamente precluso alla stazione appaltante di sollecitare chiarimenti precisazioni integrazioni in ordine ad incerte o ambigue formulazioni della proposta negoziale ciò che si risolverebbe in forme anomale di dialogo idonea ad alterare la parità di condizioni fra concorrenti non è vietata la possibilità di sollecitare con l'ovvio limite che si tratti di meri chiarimenti o illustrazioni e non di modifiche chiarimenti sui tratti dell'offerta tecnica le quante volte sia ritenuto opportuno per l'assegnata ipotesi di proposte connotate di particolare complessità vedete attenti il consiglio di stato dice non è detto che io adotti questa interpretazione per un appalto di fornitura di risme di carta dove detta la grammatura dette le misure non è che c'è da chiedere chiarimenti tecnici qui si trattava di una procedura di affidamento particolarmente complessa ed è il motivo che determina la possibilità di chiedere chiarimenti barra illustrazioni io preferisco usare illustrazioni perché non si confondono con i chiarimenti ante gara o in corso di gara che vi ho illustrato non è con ciò preclusa l'attività di attenzione come viene definita come ve l'ho messa io nel titolo di questo commento soccorso procedimentale attenzione diverso dal soccorso istruttorio il soccorso istruttorio sia nella fase delle buste amministrative sia nella fase di errori formali nelle buste amministrative qui invece ho un soccorso sull'offerta tecnica ed economica sulla quale non è consentito fare soccorso istruttorio quindi ecco perché l'addizione utilizzata di soccorso procedimentale in questo senso si cita se stesso il consiglio di stato sezione quinta cita la sezione terza del consiglio di stato e la sezione consultiva sul parere relativo ad una delle varie modifiche del decreto per cui chiaramente al concorrente fermo il divieto di integrazione dell'offerta se sono precisazioni finalizzate a consentire l'interpretazione delle offerte a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa sono un favor partecipazioni e quindi sulla base di questo è accoglibile questa teoria interpretativa il fatto che ci fosse una demo funzionante del software va nella stessa direzione perché dice la stazione appaltante voleva una concreta dimostrazione di funzionalità accompagnata da specifici chiarimenti quindi non è illegittimo aver chiamato la singola impresa a far vedere come funziona la demo perché era già previsto originariamente ti chiedo una demo ti chiedo di farmi vedere come funziona il software che per definizione io non so usare perché ancora non l'ho acquistato e quindi è una modalità che in quanto richiesta a tutti vedete si tratta di una forma di approfondimento generalizzata cioè se gli avessi chiesto chiarimenti sulla demo di un'impresa e non di un'altra avrei violato la par condition qui è stata chiesta a tutti in più è stata audio registrata non ci sono motivi per ritenere che questo comportamento fosse diciamo in violazione di del principio poi si cita la trascrizione qui probabilmente la stazione appaltante è stata un po ingenua ad un certo punto nella registrazione audio che vi ricordo è documento amministrativo quindi la il secondo arrivato ha chiesto accesso a questa audio registrazione e si è sentito tutto il la conversazione a un certo punto uno dei membri della commissione dice durante la pausa si è accennata ad un problema fesso cioè va a dire che è stato interrotta l'audio registrazione siano andate a prendere un caffè sono tornati e durante la pausa si è discusso di un problema e ovviamente questo ha fatto sorgere mille dubbi avrei parlato di questa cosa di quest'altra e quant'altro ora a favore di questa persona è che l'ha detto mentre veniva registrato quindi è ingenito a ingenuità non certo probabilmente altro in definitiva in dispetto di specifica circostanziata e documentata prova di un'alterazione dell'ordine procedimentale l'operato della commissione appare esente da criticità sicché la sentenza deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado rimangono da esaminare alcuni aspetti che riguardano diciamo l'inammissibilità dell'istanza presentata cioè in quanto sia la seconda arrivata che la terza arrivata hanno fatto delle memorie di comparsa formali vedete meramente ripetitive senza niente di aggiuntivo si ribadisce quanto e il consiglio di stato dice no non funziona così dovevi essere più precise queste non te le guardo nemmeno la questione è stata molto delicata in primo grado è stata persa in secondo grado è stata vinta quindi vengono compensate le spese dei due gradi di giudizio quindi in definitiva una sentenza molto interessante ricca di spunti e di jolly che ci consente di chiarire cosa sono i chiarimenti prima della chiusura del termine cos'è il soccorso istruttorio prima dell'apertura della busta b e c che cos'è il nuovo soccorso procedimentale che non è altro che l'illustrazione nelle procedure complesse di problematiche attinenti all'offerta ovviamente tecnica perché quella economica un numero non ci dovrebbero essere problemi di chiarimenti che va sotto il nome appunto di soccorso procedimentale consiglio di stato 7353 2022 io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione arrivederci